Giuseppe Stigliano, insomma questa chiacchierata intanto parte da dei numeri perché ho ascoltato il tuo TED speech tenuto a Roma un po' di tempo fa però online da poco già a 15.000 visualizzazioni e la cosa interessante è che si parla ovviamente rivolgendosi anche al marketing ma di armonia. Sì diciamo che il pretesto, il titolo è proprio come diventare un supereroe del marketing quindi in realtà parlo di marketing e l'ho tenuta sul marketing per poi è quello di cui mi occupo. Però il TED sai c'ha sempre questa idea di ideas worth spreading, le grandi idee che vale la pena raccontare e quindi ho cercato di raccontarla parlando di armonia, armonia è questa parola che viene dal greco però mi interessava perché era un modo per parlare di contraddizioni, lui sapere che armonia era la figlia di due divinità il dio della guerra e la dea dell'amore e non a caso si chiama armonia perché doveva riconciliare questi due opposti pazzeschi no guerra e amore e secondo me è un po' il compito che spetta a chiunque si occupi di business oggi e di marketing nello specifico nel cercare di aiutare le aziende a trovare un po' di armonia tra tanti di quegli opposti che ormai è veramente diventato ingestibile. Diciamo poi insomma che c'è sul banco degli imputati una parola efficienza forse insomma in suo nome si fanno tanti errori o magari si guarda anche troppo oltre. Diciamo che la scuola economica a cui tutti si rifanno di cui era tra gli altri esponenti c'è questo Milton Friedman che ha vinto anche il premio Nobel per l'economia una delle ragioni per cui Friedman è famoso è perché ha detto the business of business is business e quindi di fatto è un'idea per cui le aziende devono focalizzarsi su quello che fanno e farlo nel modo più efficiente ed efficace possibile e quindi si parlava di economie di scala economie di scopo economie di apprendimento tutti focalizzati su quello poi ad un certo punto però siamo resi conto nel tempo che focalizzarsi esclusivamente su questa efficienza su questa efficacia su queste economie va bene ma non può essere a discapito di tutta una serie di altre cose perché insomma se siamo super efficienti negli Stati Uniti o in Europa e poi però facciamo danni perché abbiamo delocalizzato la produzione in paesi in via di sviluppo beh queste sono due contraddizioni che dobbiamo riconciliare ecco perché armonia perché non possiamo più permetterci di fare finta che siccome non stiamo infrangendo nessuna legge in un paese in via di sviluppo perché magari c'è un governo che non ha particolari leggi legislazione relativamente al lavoro minorile o alle condizioni di lavoro agli horari di lavoro allora in ragione dell'efficienza in ragione del perseguimento della massimizzazione del profitto per gli azionisti che era quello che ci hanno insegnato allora va bene tutto è un pochino più complicato di così il mondo ce lo sta raccontando e ce lo sta dimostrando in maniera anche sempre più forte che queste contraddizioni vanno riconciliate ecco e tirando insomma una linea e guardando alla pratica quindi cioè cosa sta succedendo e come si deve affrontare il nuovo mondo? io sono un forte sostenitore di questa idea che il marketing debba evolvere da questa idea di dalle mie parti direbbero making people want things cioè fare in modo che la gente voglia le cose a making things people want ovvero utilizzare i dati, elaborarli, trasformarli in degli insight come abbiamo sempre fatto però poi anziché semplicemente noi marketers raccontare una storia che aiuti quell'azienda a vendere di più con quegli insight noi dobbiamo abbiamo la responsabilità di informare la strategia di innovazione delle aziende quindi tu immaginati un giro che dice ok focalizziamoci a valle mettiamo il consumatore al centro ascoltiamo quello di cui ha bisogno cerchiamo poi di inferire quello che ha senso produrre e cerchiamo di farlo avendo rispetto di quello che questa persona vuole e quindi non più un'azienda che si sveglia la mattina e dice what else can we make and sell ma un'azienda che dice what else can we do for the customer quindi ascoltiamo il consumatore e scopriamo che questo consumatore giustamente comincia a chiedere prodotti che siano in grado di conciliare questi opposti che io dico in armonia ovvero che si aspetta prodotti che siano eleganti funzionali belli esteticamente ma anche sostenibili rispettosi le condizioni dei lavoratori e la generazione z la generazione y gli stessi millenials sempre di più lo chiedono allora forse questo focalizzarsi a valle questo utilizzare il marketing non più solo come un amplificatore di notorietà ma anche proprio come un propulsore di innovazione per le aziende è la chiave quindi sempre più prodotto servizio e meno comunicazione io ritorno proprio alle origini i grandi padri del management come tra che ha lo stesso kotler sul marketing con un atteggiamento un po provocatorio dicevano che se il marketing è fatto bene il sales perde di importanza cioè devo spingere meno devo meno creare delle storie eccetera perché il marketing è fatto bene vuol dire che hai fatto un ottimo lavoro di sintonizzazione della domanda e dell'offerta la verità però è che poi viviamo in un mondo in cui l'offerta è incredibilmente superiore alla domanda quindi la comunicazione è cruciale perché poi la storia la devi raccontare la di raccontare nel miglior modo possibile per far sì che il prodotto a sia l'importanza la differenza del prodotto a rispetto al prodotto b sia percepita quindi meno importanza della comunicazione non lo direi perché ripeto è un mondo in cui c'è un tale affollamento un tale bombardamento natale polverizzazione di touch point che la comunicazione ancora quello che ti aiuta a scegliere meno comunicazione make up meno comunicazione cipria sul naso è più una funzione marketing che aiuta le aziende a capire cosa devono produrre e poi attraverso una delle sue leve cioè la comunicazione aiuta a raccontarlo nel migliore dei modi e a proposito di comunicazione insomma visto che adesso è un po che tu lavori in quelli degli uk oltre manica insomma come la vedi com'è la tendenza cosa è cambiato rispetto al tuo lavoro che facevi qui ti occupi sempre ovviamente di brand internazionali però ecco con che prospettiva differente ma diciamo che ho l'opportunità io adesso un ruolo global di global si io quindi seguo tanto gli uffici americani quanto quelli europei e ci sono delle sfumature evidentemente ci sono delle delle attenzioni diverse delle attitudini diversi sono anche dei budget molto diversi tra quello che succede oltre manica e oltreoceano e quello che succede nell'europa continentale diciamo così ci sono diverse tendenze in atto ovviamente questa attenzione verso tutta una serie di temi distanze che hanno a che fare con la società e che impongono alle aziende di ridefinire il proprio lavoro sono sono veramente molto molto potenti molto importanti e un elemento interessante secondo me per capire dove sta andando e riflettere proprio sul fatto che le nuove generazioni in questo momento rappresentano sia la più grande forza lavoro quindi chi va a lavorare nelle agenzie nelle aziende sia il più grande mercato quindi poi chi compra quei prodotti allora se queste nuove generazioni hanno una così forte attenzione per la sostenibilità ambientale per le condizioni lavoro per la flessibilità in ambito lavorativo quindi tutto il tema del lavoro da casa lavoro in ufficio per la diversità per l'inclusione cioè per tutti questi temi tutto questo poi inevitabilmente si riflette tanto nel modo in cui le aziende si comportano nelle nelle policy nelle procedure quanto nel modi prodotti che 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 fabbricano nei servizi e ovviamente anche nel modo in cui le raccontano questo trovo sia una costante in questo momento ma questa era insomma un'era armonica l'ambizione è che lo diventi sempre di più c'è questo questa idea bellissima di questo incubatore di start up e anche un po un think tank che si chiama entopan che racconta proprio di questa harmonic innovation a me piace molto l'idea di questa innovazione armonica cioè di questo guardare al futuro perché poi l'innovazione è quello no l'innovazione è un esperimento dal risultato incerto quindi devi andare verso il futuro nel fare questi esperimenti concepire qualunque processo di innovazione in modo che sia armonico cioè che abbia rispetto di tutte queste che consideravamo delle contraddizioni no etica e profitto risultati di breve periodo risultati di lungo periodo diversity in inclusion però poi la meritocrazia tutte queste contraddizioni dobbiamo dimenticarci dobbiamo smettere di considerare le contraddizioni e trovare il modo come facevano gli antichi greci ispirandosi a questa divinità che si chiamava armonia e che era proprio la divinità che doveva riconciliare le antitesi gli opposti le contraddizioni dobbiamo cercare una quadra è più facile a dirsi che a farsi sì ma è a mio avviso sempre di più il nostro lavoro è una grande responsabilità grazie